La laurea magistrale onoris causa in filologia moderna. L'università mi emoziona più della notte degli Oscar, dove sono tra la gente del cinema. E il fatto che questa laurea venga da Napoli mi rende davvero felice. È commosso il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, che ha ricevuto la laurea onoris causa in filologia moderna dall'Università di Napoli Federico II, nel corso di una affollatissima cerimonia. Sono intimidito e lusingato, ha detto il 45enne regista napoletano che da ragazzo si iscrisse ad Economia, iniziando la sua lezione su scritture e cinema introdotta dalla laudazio accademica di Corrado Calenda, professore di filologia dantesca e amico sin dagli esordi, e dall'intervento del rettore Ghetano Manfredi sulla fondazione dell'Università Laica più antica d'Europa. La laurea federiciana ad Onorem, in passato attribuita anche a Riccardo Muti, è stata proposta per Sorrentino dal Dipartimento di Studi Umanistici, come ha ricordato il direttore Edoardo Massimilia. Oltre 500 persone hanno applaudito il regista nell'aula storica, centinaia di ragazzi erano all'esterno ad assistere alla cerimonia su Maxi Schermo, in attesa della festa concerto serale in Piazza del Gesù. L'unica cosa che posso rivelare sono certi ricordi e certe suggestioni, trovandomi a Napoli, città dove sono nato e cresciuto, le parole di Sorrentino. Tutto ciò che accade di fondamentale in un essere umano avviene nei primi vent'anni, diceva credo Virginia Woolf. Questo per me coincide con Napoli, le parole di Sorrentino durante la sua lezione, ricordando le frustrazioni giovanili, la malinconia, la perdita prematura della spensieratezza che hanno formato il suo inconfondibile stile.